Castro, riconfermata alla guida di Castellario per i prossimi 5 anni. Sì, è stata una bella esperienza, sono molto contenta del risultato, anche se sinceramente fino all'ultimo non ero certa della vittoria. Dico una bella soddisfazione perché ho avuto modo di trovare un gruppo di persone coese che mi hanno dato fiducia e quindi il fatto di aver trovato delle persone che credevano in me è già stata una vittoria. Abbiamo costruito il nostro programma in continuità a quello che è già stato fatto negli anni precedenti e sicuramente il fatto che i cittadini ne hanno dato ancora fiducia sarà per me un motivo per impegnarmi come ho fatto ancora, ma ancora di più. Una vittoria al photo finish? A chi si sente di dedicarla? Allora posso dire la mia vittoria la dedico a parte i miei cittadini, a mio figlio e a mio padre perché se ho avuto la forza di, dopo quello che mi è successo, di ricandidarmi ancora, è perché nella sua vita ha passato tante peripezie, ha dovuto ricominciare la sua esistenza un'altra volta dopo che è venuto io dall'Istria e da lui ho imparato la forza di cominciare a rialzarsi sempre con una convinzione che se si è fatto tutto quello che si doveva fare con coscienza si deve andare avanti a testa alta ed è quello che io ho cercato di fare, ricadirandoli. Grazie.